Auto in fiamme nella mattinata di sabato 2 ottobre, poco dopo le 11, in corso indipendenza a Rivarolo Canavese. Una Renault Scenic si è incendiata mentre era in viaggio. Il conducente ha fatto appena in tempo ad accostare e allertare il 112 che le fiamme hanno avvolto l'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, la polizia locale e i carabinieri di Rivarolo. La vettura è andata distrutta, rallentamenti al traffico. Grazie a tutti. Grazie.